Occhio, ho salvato la clip Nooo Ragazzi, non avete idea di quanto vigore ho? Cioè, due, quattro, sei Ma sui proprio vigore ho? Ma... Ora c'è il checkpoint Io ho 13 tacche di vigore, ragazzi Io pure, tipo, due, quattro, sei Otto, dieci, dodici, tredici Dove si vede? La contare Mi contamo via, vai Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Eh, qua, qua, qua Qua, 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 qua GG GG, vp Ora si Ora è un f***o, sì Ma non abbiamo Aspetta, vai a pisciare e poi andiamo No, no, dai, che sto tizio aspetta a noi No, ma non c'è il tizio È il bot È bot? Sì Ah, allora, raga, aspetta Un attimo che piscisci Mi sto piscendo di sopra Va, scuri, andate, Amone Eccomi qua Eccomi ragazzi Oi, come ne, come ne, Andri Andate a parlare con Gato Zita Un attimo Ah, ok Sta arrivando, sta arrivando È stata rilevata la presenza di liquidi? Cioè? Mi sono pisciato addosso pure io Giogare Un po' il fricco No, no, sono qua, sono qua Di kit? Immagino che qua non ci saranno zombie Dato che ci sono un sacco di civili, no? Ragazzi, ragazzi, ci sono un sacco di porte da aprire Vabbè, c'hai ragione, ce ne siamo Caffuddati all'ultimo Da qui, ragazzi No, aspetta Da qua, da dove andri Comunque non è la Deagle Ma è la Eagle Sì, lo so Ma si chiama Deagle nel gergo Cretino Ricarico E' proprio semplicissimo La Desert Eagle Quindi Deagle Esatto C'è un Deagle Aspetta che c'è una cassa, ragazzi Io avrebbe mai detto Mazzini, attiriamo i zoni Prego Mi scusi, vorrei una Vorrei fare un reclime La stanza 47 Era piena di mostri E puzzava Attenzione La cassa 4 è chiusa A causa di infestazioni di Sputabile Grosso Che cosa è? Aspettate, aspettate Danmi Allì Chi è che c'ha i corvi in casa? E' vero Sembravano a corvi Amore Comunque la Deagle E' troppo forte Si, si, shotta Ma pure da lontano Dovunque Eh, hai col picciacco Eh, slovacchi anche Mi piace Si, si Che cos'lova E' Da qua Ma questo è un bar È arrivato un grosso Porco demonio Tutti li ho schivati Sto scappando E' il bar dell'inizio del gioco Raga Quando quello mette la cosa sopra Il banco Oh, vero Sì, era quello Eh? Ragazzi Qualcuno ha messo gli autobus Di fronte al coso Cioè Non c'erano prima Eh? Cassa Uh, c'è C'è una porta Raga, la apro No, no Aspetta 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 Dietro Colosso C'è un grosso C'è un grosso Un grosso Un grosso Ragazzi Questa scena Questa scena E' nella pubblicità Del gioco Qua ora succede lì Raghi Dio Mincia Ma l'avete visto Concemo lo troppo Che sono qui Ce ne sono un bordello Effettivamente Un bordello Tutto è qua Dove? Qua qua nel bancone Madonna Proiettili Un bordello Cosa mi vorresti dire Vabbè No, no Posto, posto Eh, kit Di medicinale C'è un armadietto di medicinale Meglio approfittare Barretto Un fucile Non lo so Non lo so Possiamo Non capire Secondo voi Le finestre Non lo so Non credo Ci sarebbe stato subito Della Tasta di legno Visibile Ragazzi Questo barretto A potenza di fuoco 150 Io me lo sono preso Accendire Andrei Andrei Curati Se serve C'è un armadietto Di Mitragliatrice Un RPK L'ho fatto No Mi sento Mi sento Vale Mi sento Mi sento Copyright Sticchio Di Tua Mamma Grande C'è un grosso Sì Non mi è scappato Di Dove è in testa È bene Sono a terra Sono a terra Ripara il jukebox È certo Sto bene Ma dovrei occuparmi Di questi Aiuto Occhio dietro Sono a terra Di carico Ok È morta Ok Te lo fanno fare In più step Praticamente Ragazzi Ci penso io Ok Grazie Quando devo pisciare Sempre 3 su 6 Ok Occhio grosso Non lo sto facendo io Mi sono fatto Minchia minchia Aspetta Aspetta No Se quello riesce No Se quello riesce A uccidere Aiutiamolo Ok 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 Can you raise us? Ok Grazie Ragazzi Ci sono troppe Troppe cose Da fare esplodere Troppe tanics Si 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 Ragazzi Le dobbiamo usare Grazie bro Ripara il jukebox Aspetta Prendetele Prendetele Venite qua Prendetemi E fecondatemi Tutti Ma Zero su 6 Che cosa Trovo Avete soldi Avete soldi Raga Venti Venti Io nel 301 Vabbè Tieni Tieni Qualcuno Qualcuno Mi può curare Raga Gli servono Gli servono Ti amo Ti amo Per il fucile Prendetele Questa è la migliore Che posso Ti ringrazio Ragazzi ho due bombe qua Ti ringrazio Ragazzi Questa è Poi Io le prendo Io La tengo Non mi piace Aspettate Prendo le munizioni Ok So Mazz Just Adesso Un minuto Non lo so Non lo so Ragazzi Aggruppiamo i soldi Che sono rimasti Un altro di noi Ti può curare Figo Venete Ok Vi dà pure i miei Terra Io ne ho 301 Righi tutti Righi tutti Io Tutti le devi curare Sicuri raga Ok Vado Sta arrivando un grosso Grazie raga Ce l'ho io Ce l'ho io Ok U Il nemico è qui Morto Questa bombola Lasciatela qua dentro Qua Ok raga Più il tempo passa Più si raggruppano Sto riparando Ho pochi colpi Io pure Che ti servono Che ti servono Che ti servono bro Ma forse Ormai 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 Ci pensai più Dai 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 Vincio Grosso Oh scusa Minchia Aiuto 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 Ci penso io Grazie 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 prof Ripara il giubbocca Ancora A 4 6 Ce ne mancano 2 Mi serve Raga Però se ci mettiamo fuori Andiamo fuori Andiamo fuori Ah più spazio Bonitello Ma ci sono gli autobus Intanto che vanno e vengono Forse Forse li stiamo distraendo Tutti i zombie Per far contare Ok non la voglio Esatto Esatto Crepa Coglione Morto Minchia Ho 7 hp Che ha pure Quello è messo male Chiudi Uno Minchia Occhio C'è una troia E' morta Via Macchina Via Ripara il giubbocca Non ce la facevo più Pepe Pepe nella macchina Vai andiamo Andiamo Basta Basta Let's go Filmato Ragazzi GG Mamma mia Grande raga Sbara Isabella Isabella GG Offro io Ho sbloccato un trofeo Let's go raga Let's go Posso sparare? Ci sono raga Ma questo è il punto di prima Praticamente Abbiamo perso i contatti Con una squadra incaricata Di ritornare La vecchia tavola Stai zitto Stai zitto È vero Ho uno di vita Ragazzi Sono state compromesse Mi sono curato Ragazzi Mi curo pure io Servono i silenziatori È vero Ok Rifaciliamoci Uh posso prendere un altro kit Raga mi date dei soldi che vi prendo un kit Ok grazie Ok così ne ho due Posso curare un'altra persona Fortunatamente Molti erano feriti Lì Non vuole tolci Siamo che si dovrà Minchia È diventato tipo Fasmofobia Fasmofinghe Fasmofinghe Sì 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 Ci siamo Tipo pure sta avvenendo Che f***ata Che cazzo che atmosfera Ragazzi In me lo spariamo meglio Secondo me È tipo alba Mi sa che il tipo Non l'ha capito Camminiamo tutti vicini Hey dude We need to be still Don't shoot too much Al silenziatore Ok Ok I have silencer Perfetto Sì sì Se i frigoriferi non sono stati compromessi e facciamo ripartire il generatore Siamo a posto Ce l'abbiamo tutti in silenziatore No io no Oh minchia Mi sto incerottando solo un minuto Avete svolto granità Io c'ho un sorbetto 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 Che si arriva Saremo un ordo serve Minchia qua servono le armi Mi Ma che è sto il rumore Talpa Talpa? Eh sì è il nuovo mostro Ah minchia vero Io non so Ma avanziamo Hai detto Non avanziamo Come avanziamo E cos'è sto coso? Ok Che cosa vuol dire? Uno io Una iuola Ah Uno yogi Che cos'è? Mi sembrava una cosa in particolare Occhio qua C'è in silenziatore pure tu Righi La puoi usare? Vabbè a sto punto ho utilizzato il coltello Occhio ragazzi La talpa la dobbiamo evitare Attenzione le talpe mutanti allertano le armi Anche se vengono uccise Non apritela Ok Faccio l'allarme Uh c'è qualcuno che mi sta picchiando Ok in allerta Addio Minchia Un minchia Un minchi Un minchi Siotta Mi ha fatto Un minchia Guarda come vanno giù Siamo andando avanti Ma la talpa? Ma io ne sento uno qua dietro o qua sopra Ah io pure ne sento uno qua La talpa? Non lo so Occhio Persecutrice Ok è morta Un altro picchiatore Ok è morto E' sopra Vai più Non avrei mai pensato di fare queste cose La porta è stata aperta però Vabbè entriamo entriamo a sto punto Sì mi sa che dobbiamo Ok ok Occhio Sul serio? Vabbè minchia non lo potevi sapere Guarda si stanno compenetrando col muro Mamma Dietro raga Raga però diciamo altri che credo che stia parlando Ok Meglio meglio sconfiggiamolo Credo Credo stiamo baggati Beh vi lancio un tubo bomba Io ne lancio un altro Ok anche io Pammio Si è intaccato però No 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 non si è bancato Non si è bancato Vabbè ci mettiamo dentro Cosa cazzo Un grosso Ok un grosso Vabbè Lo sono ricoverto di gish Minchia Sono con l'amico Friskis Occhio dietro Che mi fa di qui Arrivo Minchia 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 Sono a terra Cazzo Troppo vicino a un'altra Si 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 Ok Sono a terra Esecutrice Porca te lo Bro se mi prendi Utilizzo un medikit E te ne do uno a te Ti penso io Walker Grazie Grazie Ok E' uno E' due Ok E' morto l'orco Perfetto Grande raga Mi sono silenziato Alla deagle Fighissimo Dai E' uno scar silenziato Scar silenziato Uh scar silenziato Utile E' vero Oh Oh Mario lento Comincia Ricarico Ho fatto le bolle pure io Proseguiamo Raga Questa minchia di talpa Ha rotto i coglioni Fa un bordo Ma è vero Ho trovato uno E le scorte mediche Ok Raga abbiamo le scorte Io e Somaz Però Io e Andri proteggiamo in caso Anche se Somaz Si sta buttando Picchiatore Picchiatore Ok Picchiatore è morto Aia Aia Perseguitrice Ok Minchia Tutti si zommerano Da dove Sono morte Ma come Come l'ho allentata Si può capire Perché gli hai sparato E l'hai uccisa Ok grazie No Non l'ho uccisa io Vabbè Gli hai sparato No Sono a terra di nuovo Tutti addosso Ce le vanno Ah ma c'è la talpa Non gliele posso sparare La talpa raga Se non la Se non la colpite Vabbò Non vi fa niente Ah neanche se ci vede No A conto pare no Poco fa ci sta la cammina Alla accanto No Io non ne avevo capito Grazie E la colpiamo E la uccidiamo Io pensavo che se ormai Visto che a me ce l'ha visto Uh Un grosso Occhio Oh ma sempre con me a lave Munizioni 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 Sono quasi completamente senza munizioni Davvero Grazie Grazie Thanks man Dov'è tornare utile Ah è rifugio What the big fuck is going on No No Cristo Veloci Ok Ma se ho una cassa in mano Mi spiega Una cassa di due Ragazzi Dov'è l'altra cassa? Qua ce l'ho io Qua ce l'hanno tutti e due Ok Madonna Madonna che ansia Ce l'ha dato in mano ma non avevo capito che dovessi posarle Che E io dentro di me E io dentro di me Tu una cassa di due Dove l'abbiamo lasciata What the fuck Guarda l'utiamo la partita Tre Borsa di pronto soccorso Abbiamo dei personaggi diversi dal solito Io pure ho sempre avuto Fischi faschi qua come si chiama Walmart Forse le dobbiamo aprire Raccogli ancora Le dobbiamo raccogliere le due coglioni Ragazzi Ricarichiamoci tutta la vita Prendo un kit Due medic kit E due tubi bomba No no Mi ha aperto quello Il kit l'hai bro? Io ne ho due Ok Ah sai kit medici Uno kit attrezzi Grazie Cos'è? Vuoi ricaricarlo Ah ma sono parazzato Ragazzi c'è Ragazzi c'è un picchiatore qua davanti Ok è morto Grazie Grazie Thank you Mi sta curando tutto il tempo comunque Taglio È bravo È vero è vero è molto bravo Come prego Ma che bello Guarda che bello questo scorcio Oh troppo Oh troppo Cos'è? Ragazzi ho lì la sopra Questa macchina è con l'allarme sicuro Oh shit Sentito? Abel cancello di una lorca Minchia Ragazzi ma dov'era? Era al muro bro Era qua Oh picchiatore picchiatore Ma dove cazzo è andata a finire la tanica? Ho tirato una tanica giù Aia 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 Ragazzi ti giuro che non l'ho vista proprio Non c'è un hit a 3 ragazzi Ok lo prendo io lo prendo io Ok ne ho due Dai 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 Non si può giocare Non si può giocare No 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 Ho due vomitatori a posto Ok Sputabile Cos'è? Vomitatori E' come un vomitatore Se ne sta andando Esplode Comunque questo è bravo ragazzi E' veramente bravo Ci ha coperto il culo numero 6 volte Andate a aprire Apro io Apro io Ok Uh Prendete tutti i soldi Munition Apro questa cassa Una cura gratis Ok ci sta curando Hai curati anche tu Ce li hai soldi? Eeeh no Ecco Ti anni Ok ok grazie Non sei utile Un curo Visto Ok Eh mi sa che si passa solo dalla porta Si Attiriamoli Dici Cassa di rifornimenti Dinner this Dinner this Accessorio per la canna Per la cena da questa parte Qua ci sono cose C'è una moto Ok Ok occhio dietro baby Ah no non sei baby Ok Vabbè L'ho aperto proprio Conoscendo La seconda cassa Chi la va Eh Andri Eh l'altra L'altra tu Non l'avevo io a posto Ok Occhio qua Occhio che allarmata questa porta No cazzo Eh la L'ho dovuto fare raga Ah ok Ok Bella quella molotovla GG Occhio a sinistra raga No raga devo tornare indietro Perché Perché Non so perché ho questa mitraglietta del cazzo Là c'è una mitragliettrice leggera nella zona che abbiamo aperto Ricarico Però vieni prenditi sta bomba No 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 è meglio la mitragliettrice bro Grazie Thank you Thank you Non è finita Finchia no Avevo la cosa con i proiettili perforanti Fatela prendere ancora là Dov'era? Che è morto Ce l'avete i pacchi di just it Thank you mate Thank you Oh vomitello Ok è morto Ho bisogno di ammo Di cosa? Di mashingan 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 Non so questa roba Munizioni qui Grazie Un gatto Lasciatemi col picciacchino Ok Tenito pure io Ecco qua Sì Munizioni qua Ok Occhio che c'è una talpa Una talpa Porca troia Io sto avanzando Non vi fate vedere Non vi fate vedere Minchia ragazzi E' il panico di roba qua Guardate qua quante cose Minchia Usa Perché la talpa di dietro ce l'avete Eh guardate Vedete Non fa niente Ah è innocua Ah però Però la talpa praticamente si Cazzo Allora rip Ormai uccidiamolo Forse Amo fatto 30 Facciamo 31 Anche da dietro arrivano Mettetevi all'angolo L'angolo rotto Guarda a destra Tu guarda a sinistra Ok Io guardo sia a destra Che a sinistra Mi aprò un barco Occhio alla linea di tiro Eh con te metti lì davanti Altre munizioni Facciamo in fretta Prima di tutto Tu devi mettere l'avanti Occhio dietro Occhio dietro Occhio alla mira di tiro Ma contenta Eh tu le avete menzame Sì esatto Bisogna ricucire Dai Thank you Io ho tre granate Ok Questo che cos'è? Caricatore veloce Minchia mi serve Uh si cazzo Canna lunga Grazie ho messo Ho messo i fili spinati tutti attorno Uh grosso 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 Vomitatore A che cazzo Vomitello Esplose E' tipo il creeper di Minecraft praticamente All personal Must be vaccinated Allora A terza dose si devono fare il green pass Io dovrei cambiarmi arma ragazzi Non ci sono assalti Eh no questi sono gli assalti Qui dentro Dentro il supermercato Qui dentro c'era lo scherzo Sì io posso Prendere il pompa Vatti a prendere il pompa Bro Eh Here dude Just Wait I need Uh A ripul I can't A sniper A sniper Ok qua Eh Ok fa un po' Cacare In realtà Hai la carabina Ragazzi posso farlo partire Perché se no arrivano Si è vero Aspetta Aspetta Non ne sono No 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 Ma io fatti era In generale Era Nella prima mappa Del primo atto Fuscire da Assalto Jeff Peppy è ancora Nella nave A fattare le bombe Esatto Sul ponte distrutto Vabbè dai Ok dai Mi metto sulla miniganna Che è un cecchino Ok Cinque minuti What the fuck Dobbiamo resistere Cinque minuti Qualcuno sa perché si dice Come spara dei pesci Raga coprì da destra e sinistra Perfetto Già là io ero in capo Qui c'è Occhio vomitatore Raga Raga mi coprì Raga Raga No no Ma porco Pianoglio Bazzardo ragazzi Abbiamo una minigun Non l'ho usata Ancora oltre Minigun Cover Left Cover left Please Please bro Cover left Pianigun Cazzo copritemi a sinistra Copritemi a sinistra Non devo narrare Alla minigun Ok Ok Un po' ci ringrazio Minigun Dov'è Lo ricaricare Madonna Arrivano da tutte le parti No raga Ci dobbiamo coordinare No È solo un incidente La prossima volta Andrà meglio Peccato Talpa Vediamo che fa lui Vediamo che fa lui Con la talpa Ma guarda Ma è fighi Ah Hoffman Troppo bello Swat 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 con la Z L'hai letto bro Sì sì Facciamo venire la tappa da questo lato Ma c'è Ma c'è Ma c'è Ma c'è Ma c'è Ma c'è No 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 Annagati in la torre Siamo stati fortunati stavolta Eh ma lei ti annagga sempre con il suo ghiato Siamo stati fortunati stavolta Eh divertiti forza Andiamo di veloce dai Dai perché non la possiamo lasciare per te C'è di richiamare Ma c'è per te Eh sti nicchiata per te Ah penso fosse figurato È proprio a te Ah benissimo Qualcuno è ubriato Vabbè finna con l'usili Sì ma è magico Ma perché? Sembra con cuspi Che è meglio di me C'è una sputabile Oh oggi che si diciamo sì voi Cat alfa Eh vabbè Uh grosso Mamma mia il panico ha fatto questo Vaffanculo Ti piace? Io posso continuare tutto il gioco Vabbè cura Ricarico Uccidiamola Eh perché Assoluti Morta Ah vabbè Il grosso con tipo Cinque sei colpi nel braccio Muore Sì sì Vabbè Maggi nel ragù Sentito? Io sì Non mi piace Morta Ovviamente Cinquanta e cinquanta Tu dovevi venire qui da me Mazzardo schifoso Giusto un ultimo secondo Rigi A coi fima c'è Toi la talpa Poi bro Metabbina mi ha levato Dai ripristiniamo C'abbiamo 6 to be bomba No di 3 9 ne abbiamo Aspetta sto lasciando i tubi bomba qua Non ci fate toccare la Jimmy Jane Sto tornando vado a prendere le 3 bombe Ma come Io che stai facendo? Stiamo ricominciando Frank Stiamo arrivati a dire L'avete fatta? No No stiamo iniziando di nuovo adesso quella qua Sono quasi le 4 E io che fai? Compagnia Ammesso la minican Quara Qui c'è una volotov Venite a prenderla Posservire sempre Dove l'ha messa? Vai a vedere Non lo so se è worth O se è sbagliato Se quello non è un punto di spawn È ottimo Troppo per me Boh se l'ha messa lì così a colpo sicuro Questo comunque è skin cose Mi sembra abbastanza Cioè fare casa Fare casa asperoglia Mi spiegheri tutto il problema E poi guarda No perché forse ho messo tutto là dietro No 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 mi sono proprio Quali che sei due bomb No sono no Qua forse le mette No qua qua le a me Ha messo guardate che ha fatto Non lo faccio per tutti Quindi ha messo tutto qui Mamma Capito Quindi io Io non lo so questo Comunque raga siamo messi Tipo abbiamo il delire di cose Ma perché io ho preso questa roba Sì siamo messi bene Non ho vita Ho bisogno di curarmi Non ci sono i medici Ci sono i medici Sì Raga ha messo tutte cose lì Ha messo tutte cose lì Ma non è che vuole che siamo tutti là Non mi serve Non mi serve Non so nemmeno che cosa Probabile Però se non arrivano da dietro Siamo a cavallo Sì infatti Se non arrivano da dietro Sì Ma pure che arrivano da dietro Uno copre dietro E gli altri avanti Cioè uno qui di lato Uno qui dietro E un avanti Vabbè tanto di qua Non dovrebbero arrivare da qui Dovrebbero arrivare da qui Sta avviato Prendi il tubo Prendi il tubo I tubi bomb E in momenti come questo Che mi sento vivo Forse da dietro non vengo Ma è come morevo E dai amico fa male Tutto bene Oh sorry Fare il primo tubo bomba Vai nice Nice Il permette proiettili Ricarico Ragazzi da dietro non arrivano Minchia non ce la so credere Non ci posso credere Che sta facendo lui Che sta facendo Se ne è andato No 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 forse era arriva No 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 cammè cammè Non ce la perdere E va troppo veloce Chissà che cazzo di carte ague Ricarico Raga raga aiutato Aiutatemi Tuba bomba Grosso Si è come nel film Gli sparo in testa Morto è morto è grosso DG tubo bomba good Oh yes Sembra che tu mi voglia uccidere Persecutrice dei palazzi Ricarico Ricarico No l'ho ucciso Cambio spot Ok Raga i minion piccoli Dovete toglierli voi Eccolo Minchia vomitello Ragazzi sono medikit Ok si Controlla Devo curarmi Devo curarmi assolutamente Ok Quando Non ora Alla prossima ondata Pazza Tubo bomba Ragazzi sto crepando Ho 28 hp C'è un altro medikit Eh si si è dietro Ok 60 colpi minigun No basta basta Non sparare più con la minigun Eh ok Scendi e spara bro Scendi e spara Ho bisogno del medikit Eh bro io un laio Eh Minchia forse non c'è Forse l'ho utilizzato A dopo Ho ancora due tubi bomba Come siete messi Io pure Io ho due tubi bomba Quanti Due Ui Gigi ne abbiamo cinque Struzziamoli bene Vai Uno ora Uno ora Lo tiro Uno 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 Vai Io io Minchia Minchia No 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 Minchia lo tiro ora Oh persecutrice Ok morta Ricarico Ricarico Grosso grosso No 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 Vieni cari Vado lento Ok esploso Ok ok Persecutrice morta Ricarico 85 volti Ricarico Ok Vai grande Grande GG Grosso L'ho preso Gioco alla mia Forse è morto Però ho il tubo bomba Ho un altro Due volti Due tubi bomba Io Io non ho due Orco demonio Io ne ho due Ma ce n'è altri a terra ragazzi C'è un altro C'è il panico Coprite coprite Ha bisogno di munizioni Ecco Lancia un altro Lancia un altro tubo bomba Volotor Volotor Aspetta non ho sparato 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 No 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 Sono giù Sono giù Raga mi avete atterrato voi Ma forse il tipo di atterrato Cristina ma me Sto a terra Sto a terra pure io Cazzo Aiuto raga Aiuto Alza Ricky Spostatevi Sono zombie Ricky Ammazzalo E non l'avevo visto E non l'avevo visto E non l'avevo visto Sono morto Ok Sono a terra Minchia Sì Buonissimo Vai 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 Aspetta rialza Andre Aiutatemi Aiutatemi Alzatemi Ci penso io Ok Just shoot Just shoot Decidetemi raga Chi alza Andre Non ho più munizioni A posto A posto Il grosso Il grosso È morto Non ho più tubi bomba No no Raga resistete 20 secondi Minchia Versi così Mi sta portando via Cazzo Sono a terra 16 secondi Raga 16 Minchia Ok 12 10 9 8 7 Mi sta rianimando 6 5 4 3 2 1 Dai 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 Mi sta rianimando Dai cazzo Uccidete 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 Sì Ancora a fondo Mamma mia Mamma mia Minchia 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 Dai Quante Ho Fatta 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 Bastardi Schifosi Porca Ma questo è stato Devastante Ragazzi C'è Tattica Minchia Mamma mia 43 punti 43 punti Mamma caca Urlo di festeggiamento Salvinario Io devo andare a mangiare Pa Bye 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 Grazie a tutti